Buongiorno da mattino 6 per questo martedì 9 mar. Oggi si ricorda San Beato. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del centro. In apertura tutti al mare, bandiere blu, le otto spiagge, abruzzesi su cui pontare. Di taglio alto bomba carta contro Sebastiani, esplosione nel giardino del presidente del Pescara. Non mi lascerò intimidire. E poi nelle cronache della provincia di Pescara, Montesilvano, anziano rapinato in casa con l'ascia da due banditi. L'avvocato Rigopiano, il prefetto, deve rispondere. Capitignano proposta di matrimonio dopo la partita. Di taglio basso sabato la cerimonia sulla riviera sud apre la caserma della finanza. Sarà dedicata a Ermando Parete, simbolo dell'olocausto. Pescara liquami nel palazzo comune Aca, condannati. Ancora le pagine del centro. Questo sulla provincia di Teramo. Ricostruzione. Priorità alle scuole. Incontro con i sindaci del cratere. Ma per le case private c'è ancora da attendere. Poi la crisi in comune. Brucchi riduce la giunta a trattative con i dissidenti. Pineto Pitbull, sequestro convalidato. Al canile l'animale che ha zannato bimba e nonno. Santomero caccia la mucca fuggita dalla stalla. E poi gli studenti. Migliorate l'Ateneo. Chieti. La consulta incontra i sei candidati alla carica di rettore. Vogliamo più servizi. Cupello. Bimba nasce in casa con l'aiuto della nonna. E poi di taglio basso la corsa rosa a Chieti. Pronti per il giro? Le strade no. Ciclisti in città. Domenica tra le 15 e le 15.30. Lavori per gli asfalti. Lanciano. Bancarotta. Processo. Lex vertice. Croce gialla. Di taglio alto il nuovo presidente si apre l'era Macron. Debutto con un viaggio a Berlino. Rifondazione. Pelini ci ha tradito. L'Aquila. La campagna elettorale si accende sul caso dell'assessore dimissionario. Avezzano calcio. Lucchetto allo stadio. E pullman sabotato. E poi caso nazionale giù. Le mani dai risarcimenti. Vittime del sisma. Lettera di Cialente al premier. Gentiloni. Avezzano. Stati 5 Stelle. Si apre il caso sul concerto del PM Rock. Il messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Sebastiani torna nel Mirino. Pescara calcio dopo le auto incendiate. Una bombacarta nel giardino del presidente. Come tre mesi fa potrebbero essere decisivi i filmati delle spycam. sospetti sugli ultra. E poi la reazione. Un'azione deprecabile per quello che ho dato al club. Il patron dice non mi faccio intimidire. Il governo lasci i risarcimenti ai terremotati. L'Aquila. Lettera di Cialente a Gentiloni. Domani la verità dell'avvocatura dello Stato. Di spalla tutto fu d'assalto allo stand dell'Abruzzo. A Milano espongono i migliori produttori regionali di cibo gourmand. Di taglio alto Cupello. Sara a fretta di nascere. Parto in casa. Grazie alla nonna. Capitignano giocatore. Chiede alla fidanzata di sposarlo davanti ai tifosi. Montesilvano svegliato dai banditi con l'ascia. Telefona di nascosto. Due arresti. E poi di taglio basso Giuliano Veroseto. Bandiere blu. Due new entry. Titoli di apertura del quotidiano La Città. Domani torna in pista a Brucchi. Stasera la riunione di maggioranza. Poi il ritiro delle dimissioni. Ma la crisi non è ancora risolta. Centropagina. L'affresco dimenticato. Roseto è spuntato nella ristrutturazione della villa comunale. Pressing su Monti per Piccioni. Sindaco Tortoreto. Centrodestra ancora alla ricerca dell'unità. E poi il riconoscimento FEE. Cinque bandiere blu. Per l'estate 2017. Giulianova. Nuove scuole. Caserma dei carabinieri. Gli architetti denunciano irregolarità nei bandi del comune. Di taglio alto. Scuole. La patata bollente. Arresta in mano ai sindaci. Terremoto. Adeguare o costruire ex novo. Tortoreto. Via i lavori del depuratore. Doppione. Di taglio basso. Il premio. Trequattrini. Giuseppe Lisciani. Maestro del libero. E poi l'analisi sul teramo. I play out sono comunque un miracolo. Andiamo a vedere anche la rassegna dei titoli dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. In apertura. Macron ora cerca una maggioranza. I nomi per il governo. E poi Obama. Così riparte un leader. Visita a Milano. La Repubblica. Migranti. Due stragi in mare. Nuovo piano del Viminale. Almeno 245 vittime. Vittime. Previsti 200 mila arrivi. Le regioni dovranno ospitarne di più. Macron. Le mosse per un'altra Europa. Prodi. Dice svolta storica. Il messaggero titola Macron. Debutto con la Merkel. Le mosse del neopresidente. Domenica la staffetta all'Eliseo. Berlino. La prima tappa all'estero. Carta sorpresa sul Premier. Cambio di nome a Ennmarsh. Incubo Isis e operazione a Parigi. Roma. Tornano i rifiuti in strada. Tra Rage e PD. Riparte la guerra. L'avvenire. Assassinati in mare. Adesso chi indaga? Abbandonati a largo dagli scafisti. 240. I dispersi. E poi Macron. Vittoria che è già in salita. Il Fatto Quotidiano. Titola Macron. Ha già la piazza contro. Se tocca il lavoro. Resisteremo. A Parigi. Sindacati e studenti. In corteo. Si scontrano con le forze dell'ordine. E poi l'inchiesta. Medici corrotti. E pazienti cavia. Con 100 morti. Niente galera. Anche uno yacht. Per il re della terapia del dolore. Io sposto milioni. Libero titola. Tutti l'accae di Macron. In ginocchio dal bamboccione. Il presidente francese è un mistero. Non si sa come governerà. Ma è già l'idolo di politici e banchieri. Berlusconi si unisce al coro. E Salvini lo attacca. Guarda con chi stai. Renzi vorrebbe mularlo. Ma al massimo lui può fare il micron. E poi la carica degli adoratori. Solo una famiglia su dieci affida i suoi investimenti a un esperto. Gli italiani non si fidano più delle banche. Il manifesto titola Nouvelle Vagò. La resistibile ascesa del giovane leader alla prova del governo. Tra una settimana il cambio di guardia con Hollande. L'indicazione del Premier. Tra un mese la sfida politica con i vecchi partiti che proveranno a risorgere. Occhi puntati sul lavoro e l'Unione Europea. Contro Macron. La prima contestazione di piazza. E poi sanità, medici e imprese lucravano sul dolore. Decine di arresti indagati a Parma. La stampa. Lavoro e diritti. L'Europa di Macron. L'allarme di Bruxelles. Adesso è l'Italia. Rischio populismo. Si voti nel 2018. La prima mossa del presidente Neoletto. Trasformare il movimento in partito in vista delle legislative. Futuro Premier. Beiru. Impol. E poi migliaia in strada a Milano. Tutti pazzi per Obama. L'ex leader degli Stati Uniti è arrivato ieri. La Pinacoteca. Il Duomo. L'incontro con l'ex Premier. E una cena con pochi invitati. Il tempo. Roma è peggio di Pomezia. Smog. La nube. Pontina. Nuoce come un giorno nella capitale. Ma ci sono altri disastri. In agguato. Ed ecco. Tutti i siti a rischio. E poi centropagina. Io un vegetale. Ma il mio Stato. Pensa ai Rom. Carabiniere con la sclerosi multipla. 30 euro per loro. E a noi malati. Nulla. Guaio Lorenzini. Il boom di aborti. La denuncia della ONLUS. Nel 2016. Oltre 50 mila. Casi clandestini. L'unità. Colpa di Stato. Chi paga i danni? Palazzo Chigi richiede indietro i risarcimenti alle vittime del terremoto. Il conto del sisma. Nessuno rimborsa i pasti. Chiude il ristorante che da sei mesi sfama i pompieri. E poi il fallire di burocrazia per i ritardi nei pagamenti statali. Ogni anno falliscono 3 mila imprese. Obama a Milano come una rock star. E poi la legge elettorale prove d'intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Di taglio basso il presidente Macron è già a En Marche. Ha vinto il nome della UE ma ora deve cambiarla. La verità titola il piano di Renzi per far cadere gentiloni. Governo con i giorni contati. Il rottamatore deve tornare a Palazzo Chigi prima che i nodi economici vengano al pettire. Penò stavolta non può silurare il premier in direzione PD. Perciò provocherà un incidente entro fine mese. A centropagine emergenze immigrati ancora sbarchi e morti. Sala e PD in piazza per chiedere di più. Macron per l'Italia è un danno economico. Si ricompone l'asse franco-tedesco. Per noi significa austerity e continuerà lo shopping. Andiamo invece ad aprire il quotidiano Il Centro. Vediamo quelli che sono ovviamente i titoli di apertura. Tutti al mare sulla costa abruzzese. Sventolano otto bandiere blu. Richiamo per i turisti. Ed ecco le cinque località terramane e le tre chietine su cui puntare. Le new entry Giulianova e Roseto. Ma all'appello manca il pescarese. Nel dettaglio Roseto, Silvi, San Salvo, Tortoreto e Vasto. In particolare un milione di clienti sulle nostre spiagge. L'economia della costa abruzzese. Secondo l'Istat c'è una ripresa. Le case in affitto incidono per il 20%. E poi parla il presidente di Federalberghi. Giovanelli dice potremmo averne anche il doppio. La FE conferma i riconoscimenti a Tortoreto, Pineto, Silvi, Fossa Cesia, Vasto e San Salvo. Esultano i sindaci per l'obiettivo centrato. Rispetto all'eccezionale 2014 restano fuori i centri famosi per la loro bellezza. Come San Vito e Chietino, Rocca San Giovanni, Alba e Martin Sicuro. E poi l'intervento critico degli ambientalisti di Tizio del WWF dice tutta colpa dei depuratori che non funzionano. Per l'ambientalista non ci sono dubbi. Abbiamo solo sprecato 15 anni di tempo per migliorare i nostri fiumi. Ma a Tortoreto parte l'appalto. La Ruzzoreti ha consegnato ieri i lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale del nuovo depuratore di Tortoreto. E secondo le previsioni il primo lotto, che costerà 5 milioni e 356 mila euro, sarà pronto per l'agosto 2018. E infine a parlare anche il sindaco di Pescara, Alessandrini, ammette che Pescara non ce l'ha perché non è ancora pronta. E allora, come detto, sono otto le bandiere blu riconosciute per l'Abruzzo. Vediamole nel dettaglio in questo servizio. L'Abruzzo avanza nella speciale classifica delle bandiere blu nazionali che certificano la qualità delle acque e dei servizi erogati ai turisti, portando a casa per l'estate 2017 due vessilli in più rispetto allo scorso anno. Gli otto riconoscimenti conseguiti nel 2017 però sono ben lontani dai 14 del 2013 o dai 10 del 2014. È la provincia di Teramo comunque a fare la parte del Leone, con le new entry, il Roseto degli Abruzzi e Giulianova. I riconoscimenti sono stati assegnati a Tortoreto, Spiaggia del Sole, Giulianova, Lungomare Spalato e Lungomare Zara, Roseto degli Abruzzi, Lungomare Sud, Lungomare Nord e Lungomare Centrale, Pineto, Lungomare dei Pini, Pineta a Catucci, Santa Maria a Valle Nord e Santa Maria a Valle Sud, Torre del Cerrano, Corfu e Villa Fumosa e infine a Silvi nel Lungomare Centrale. In provincia di Chieti invece hanno conquistato le bandiere blu Fossa Cesia Marina, Vasto Punta Penna, Vignola e San Salvo Marina. L'incremento della qualità delle acque in Abruzzo fa il paio con il trend nazionale. Salgono infatti a 342 e da 293 le spiagge sulle quali sventolerà la bandiera blu assegnata dalla FEE. Per questa trentesima edizione in 163 comuni e 67 approdi turistici. L'assegnazione avviene sulla base di 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, dalla depurazione delle acque alla gestione dei rifiuti, dalle piste ciclabili agli spazi verdi, ai servizi degli stabilimenti balneari. La Liguria si conferma regina del mare eccellente arrivando a 27 località con due nuovi ingressi. Seguono come lo scorso anno la Toscana con 19 località e le Marche con 17. Torniamo sulle pagine del centro. La politica, la Francia Marche, la Alvia all'epoca Macron, domenica all'Eliseo. Il primo giorno da presidente e l'abbraccio con Hollande all'arco di trionfo. E poi le Drianne e Berrault, una poltrona per due, entrambi sono dati in pole position per diventare premier nel nuovo governo del presidente. Ma la gauche radicale è già in piazza, tensione e scontri. E poi a Berlino il primo viaggio si punta a rilanciare l'asse. Merkel assicura la partnership, con voi resta un pilastro della politica tedesca. Per la cancelliera la sfida è sulla responsabilità comune per il futuro dell'Europa. E poi il voto spariglia le intese politiche. Gli ecchi in Italia, l'Opa di Salvini sul campo moderato subisce una frenata. L'incontro a Milano-Obama, due ore con Renzi, insieme chiamano Macron faccia a faccia con telefonata a Parigi per congratularsi con il nuovo presidente. Il segretario PD punta ad un'asse progressista, amicizia e lavoro insieme nell'Unione Europea. E poi la legge elettorale, partito democratico, Movimento 5 Stelle, le prove di dialogo, il nuovo testo, giovedì. Parlamento, tortura, strada difficile per il DDL, il pressing del presidente del Senato Grasso, ma la maggioranza è ancora divisa. SOS Mediterraneo, migranti, strage continua, si temono altri 200 morti. Nel nuovo naufrage è deceduto anche uno scafista, sbarchi senza sosta, arrivi record. Nel 2017 sono già 43 mila, rebus, accoglienza per il Viminale. E poi il rogo di Pomezia, la EcoX, tra sequestre e sospetti, presenza di amianto sul tetto dell'azienda e si teme per la diossina. L'operazione del NAS a Parma, business cure palliative, 19 arresti ai domiciliari, illuminare fanelli e neguai anche un pescarese. Di taglio basso i rifiuti, Roma e scontro, raggi, zingaretti, ancora cassonetti colmi e sacchetti a terra ed esplode la polemica. La tragedia di Rigopiano, perché il prefetto è fuori dall'inchiesta dall'avvocato dei Feniello, una nuova memoria alla procura con l'accusa a provolo, gestione carente sotto ogni punto di vista. Il legale cita la normativa sulla protezione civile e chiede di fare luce su quanto fatto nei giorni dell'emergenza da una delle figure chiave del coordinamento. Seul vota tra scandali e minacci, i coreani del sud scelgono il nuovo presidente. Moon guida i sondaggi con l'impeachment di Park. E poi le truppe straniere per la pace in Siria, il no di Damasco. Mattarella tra gli italiani di Baires, il capo dello Stato, con Argentina come fratelli, ora turbo alla cooperazione. La Boldrini in Nigeria, il mondo aiuti questo popolo. La presidente della Camera incontra 1.500 sfollati di Boko Haram. La stretta della BCE, la Consoba verte l'Italia. Vegas chiude il settennato alla guida della Commissione e chiede una correzione sui salvataggi bancari. La pagina sull'Abruzzo c'è l'accordo annullato lo sciopero tua, intesa regione e sindacati su integrativo, risorse 3-5 milioni in più l'anno e investimenti 20 milioni già nel 2017. E poi il Consiglio regionale in Commissione i centri per i migranti, i centri di ricerca e il Crab verso il rilancio. La struttura esce dalla fase liquidatoria, parte la fase di riordino con l'ampliamento delle attività. E poi oggi all'Aquila, Sanità, l'intesa regione Università. A Chieti, Acque e Minerali contestato l'affidamento alla Norda, Gara-Fonte-Sponga, Colella ricorre al Tar. A Pescara, allagamenti, la sentenza Palazzo Invaso dalla Fogna, condannati, ACA e Comune. Mai ascoltate le richieste dei residenti e ora scatta un risarcimento di 30 mila euro. E poi via Moro, no a quell'assurda pista ciclabile, lettera dei residenti contro l'assessore civitarese, al nostro quartiere serviva l'asfalto nuovo. Il dissesto all'ospedale, ecco le immagini, si abbassa il pavimento, locali chiusi con le scrivanie. Da sei mesi l'ala che ospita l'ufficio farmaceutico è vietata a dipendenti e utenti. Visita ispettiva di pettinari del Movimento 5 Stelle, rischio crolli, l'ASL dice tutto sotto controllo. L'esponente grillino, le uniche transenne sono mobili e cestini dei rifiuti. Il direttore sanitario dice siamo in cerca di una sede alternativa per evacuare lo stabile. Cerimonia sul lungomare Sud, caserma della finanza dedicata a parete. Sabato il taglio del nastro del nuovo immobile, intitolato all'ex vicebrigadiere, simbolo dell'olocausto e scomparso nel 2016. E poi ancora Riviera Sud, di nuovo a senso unico, la prossima settimana ripartono i lavori contro gli allagamenti. Lo stop arriva il 3 giugno. Disagio sociale, più controlli in centro, qualcuno aiuti, disperati. Si moltiplicano le segnalazioni dei commercianti al comune. C'è sempre più gente in giro a chiedere soldi, servono forze dell'ordine e bagni chimici. Il GIP di spalla, il GIP Morosini, ospite dell'istituto alberghiero. E poi sempre Pescara, rubo dalla cassa e aggredisce le commesse. Rapina ieri mattina in un negozio di abbigliamento di via nazionale adriatica. È stata arrestata una 36enne. D'Alea e Flò, 2200 euro per la Croce Rossa, raccolta fondi per penne dell'azienda di moda. Domenica cerimonia al Palace con Mazzucchetti. Chiude dopo 40 anni la lavanderia Riviera. In pensione Ernaldo e Rita, titolari della storica tintoria artigianale in via Puccini. Nel 2013 furono insegnati del premio fedeltà al lavoro e al progresso economico. E poi CNA digitale e il rapporto con gli enti pubblici. Microimprese e lo sportello per acquisti e servizi online. Nasce lo Spaz, due giorni di festa, il primo centro aggregativo pubblico gestito da giovani è in via del circuito. Ieri è stato presentato il nuovo spazio aggregativo destinato ai giovani e gestito dai giovani. Grazie a un bando della regione Abruzzo e anche il contributo del comune di Pescara. Un percorso che prende le sue mosse nel novembre 2011 con una manifestazione di varie associazioni giovanili di Pescara per la richiesta di un centro socioculturale. Nel 2015 poi la vittoria del bando regionale per l'assegnazione di fondi destinati ad uno spazio ricreativo per giovani. E infine l'ufficializzazione dell'assegnazione e del luogo a loro destinato nel 2016. Un lungo cammino che oggi arriva al taglio del nastro con un fondo di 50.000 euro al quale ha partecipato anche l'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara. Nasce in via del circuito nella sede di una ex scuola lo Spaz, il centro di aggregazione giovanile gestito da tre associazioni. Secondo me è un'iniziativa storica per questa città. Sin da quando ero ragazzo questa città ha avuto necessità e si meritava anche di avere spazi autogestiti di ragazzi perché il mondo giovanile a Pescara è particolarmente vivace, dinamico e produttivo di attività sociali, culturali, musicali, creative. È uno spazio che loro hanno la responsabilità, il dovere ma anche il piacere di poter articolare con tutte quelle iniziative che vogliono mettere in campo. Dalla sala studio alla sala di catalogo sport alla formazione alla musica ci penso di una cosa davvero storica per questa città anche perché uno spazio così bello in una zona non centrale può diventare davvero un fuoco acceso di iniziative e partecipazione anche in questo punto della nostra città. Chi sono i ragazzi che gestiranno questo luogo? Sono le due associazioni che hanno vinto il bando per le reti di aggregazione giovanile della regione cioè la Soma e 360 gradi. I ragazzi delle scuole superiori, i ragazzi dell'università, tutti giovani con tantissime idee e ottimi programmi che rendono questo luogo davvero qualcosa di fantastico. E ora le pagine su Monte Silvano, un incubo in via Chieti con un'ascia rapinano un anziano in casa. Coppia e manette, la vittima aveva conosciuto la donna, una polacca di 44 anni durante un ricovero in ospedale. Mentre i ladri rovistavano nei cassetti, il 74enne è riuscito a telefonare i carabinieri che sono arrivati in pochi istanti. Lei si è arresa subito e lui invece ha tentato di scappare. Rifiuti in nuovo servizio porta a porta, oggi si fanno i primi bilanci, 50 giorni di differenziata sul colle. Montesilvano accoglie i volontari, il comune aderisce alla giornata della Croce Rossa italiana, la bandiera sul municipio. Problemi vascolari per saperne di più. Ultimo appuntamento con benessere in comune, l'esperto parlerà di gambe gonfie. E poi il Parco della Libertà verso una nuova gestione. Montesilvano ha deciso il cambio della guardia dopo le ripetute segnalazioni e verifiche dello stato di degrado dell'area verde. Il bando scade il 12 giugno. Accoglienze immigrati, domani un nuovo incontro, un nuovo appuntamento. Domani pomeriggio per il comitato dei residenti di via Firenze, che si oppone all'utilizzo di una palazzina di via Napoli per l'accoglienza degli immigrati nell'ambito del sistema di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo SPRAR. E poi no alla vendita della sede ASL. Pianella e il Partito Democratico contesta la scelta del comune di disfarsi di una serie di immobili. Comune di Spoltore, illuminazione pubblica, il bando Consip dal 2018. Andiamo avanti sempre sulle pagine del quotidiano Il Centro e iniziamo. Restiamo a Bussi sul Tirino, provincia di Pescara, Bonifica, così si rischia di far saltare l'appalto. Bussi consiglieri comunali, Salvatore e La Neve intervengono in merito alle contestazioni mosse dal Movimento 5 Stelle, dal Forum dell'Acqua e Sinistra su siti inquinati. Di spalla è morto, docente a New York aveva 86 anni, è morto il professore Sticca, Ricordi e Cordoglio a Tocco. L'Istituto Tecnico di Penne è pronto il progetto per il Marconi, costerà oltre un milione, domani la presentazione pubblica. A Manopello, delega al sociale per la dell'Ellis, la giovane assessora, si occuperà delle attività dell'ambito 17. Francavilla al mare, reti del gas all'asta, sfuma il secondo tentativo di vendita. Francavilla, nessun acquirente per l'offerta da 11 milioni, a rischio le risorse del piano triennale e dei lavori pubblici. A San Giovanni Teatino protestano 50 addetti del nido arcobaleno. A Cepagatti, distretto sanitario aperto dopo 13 anni, operativo da ieri il nuovo poliambulatorio, entro maggio 2018 la RSA con 20 posti letto. E poi campioni regionali di basket 3 contro 3 al comune di San Giovanni Teatino. Ancora Francavilla, stop e scrementi sulle strade. Facciamo entrambi uno sforzo e lo slogan della campagna di sensibilizzazione, lanciata alla fine del mese scorso dall'assessore all'ambiente del comune di Francavilla, William Marinelli. L'obiettivo, dopo numerose lamentelle segnalazioni dei residenti, è quello di invitare i proprietari dei cani a raccogliere gli escrementi dei amici a quattro zampe, evitando così che strade, marciapieri e aiuole restino sporche. E poi salvata Cagnetta lasciata a morire nel fiume Foro, un cucciolo di cane di taglia media è stato abbandonato, umiliato e lasciato a morire nelle acque del fiume Foro, nei pressi della zona del maneggio. Per fortuna a questo quattro zampe, un esemplare di femmina di soli due mesi, sabato mattino una donna si è arrecata nei pressi del corso d'acqua e ha sentito i guaiti della Cagnetta, che è stata poi per fortuna portata in salvo. A Chieti, Cupello, bimba nasce in casa grazie alla nonna, acque rotte all'improvviso, non c'è tempo di aspettare i medici, mimma fa partorire la figlia nel bagno, Sara sta bene, la 26enne avverte i dolori nel cuore della notte, la mamma non si perde d'animo e l'aiuta a far uscire la nipote di cui intravedeva già la testolina. Lanciano ha processo l'ex vertice della Croce Gialla, Lanciano bancarotta fraudolenta, rinviati a giudizio Basili, La Scaglione e l'imprenditore Picciotti. Gli studenti valutano i sei candidati rettore. Chieti, 32 giovani che hanno diritto di voto e pensano quanto un piccolo dipartimento universitario. E poi andiamo all'Aquila, calcio e tepisti, lucchetto allo stadio e Pullman sabotato, nuove intimidazioni all'Avezzano e al suo presidente. Paris dice sono i soliti 3-4 oltre e non mi fermeranno. Tra Paganica e Camarda, operaio precipita da 4 metri, sequestrato il cantiere. A Trasacco rapina, pensionato con una pistola, arrestato clandestino di 32 anni che ha fatto irruzione in una stalla. A Vezzano, sciocca scuola, botte e insulti agli alunni, violenza alle elementari, due maestre intercettate dai carabinieri, denuncia di otto genitori. Teramo dopo terremoto, l'ufficio ricostruzione ai sindaci, priorità assoluta sono le scuole. Entro la settimana i comuni devono presentare un quadro della situazione da consegnare ai rani. D'Alfonso dice va bene delocalizzare, ma gli edifici scolastici vanno recuperati per non far morire i paesi. E poi Pineto, convalidato il sequestro del pitbull, portato in un canile l'animale che ha zannato bimba e nonno. Garrufo di Santomero caccia una mucca fuggita, l'animale avvistato nelle campagne e al centro del paese. Ci separiamo per una piccola pausa, spazio alle previsioni di Luca Mennella e noi torniamo tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora ci spostiamo sulle pagine del messaggero. Sisma, cialente a gentiloni, non toccate i risarcimenti. L'aquila, lettera del sindaco al premier, lo Stato rispetti vittime e familiari. Il PD, caso più politico che giuridico, domani le spiegazioni dell'avvocatura. E poi il Crab si salva per il Cotir, rilancio impossibile. Il progetto Treni variante Roma-Pescara farà guadagnare 90 minuti. Un progetto presentato dal deputato Gianni Melilla e dal sottosegretario della regione Mario Mazzocca. Costerebbe meno del bypass autostradale, ma su A24 e A25 bisogna comunque intervenire. Ieri è stato presentato uno studio che punta a dimostrare come un adeguamento delle linee ferroviarie potrebbe ridurre consistentemente quello che è la tratta di collegamento Pescara-Roma con un costo minore di quello della modifica autostradale. Vediamo. Secondo uno studio presentato dal Movimento Democratico Progressista, la tratta Pescara-Roma su rotaia, finita già molte volte sotto la lente per le critiche dei pendolari su tempi di percorrenza e frequenza delle partenze nell'arco della giornata, potrebbe subire una riduzione consistente nei tempi grazie a un potenziamento della linea ferroviaria del costo di 2,97 miliardi, abbassando di 60 minuti la sua attuale durata. Ma non basta. Per essere ancora più chiari, i rappresentanti del Movimento hanno comparato un altro dato. L'operazione di modifica della tratta autostradale A24-A25 della strada dei Parchi, finalizzata allo stesso scopo, costerebbe 6,70 miliardi di euro con una riduzione di percorrenza di soli 39 minuti. Non solo questa proposta è ampiamente sostenibile dal punto di vista oltre che ovviamente ambientale e di risposta alla sismicità del territorio, anche dal punto di vista della sostenibilità sociale istituzionale e soprattutto economico-finanziaria. Questi interventi di messa in sicurezza andavano fatti e programmati ben prima e sussiste un obbligo, oltre che di legge, anche contrattuale. Obiettivo finale dello studio è quello di eliminare, una volta per tutte, l'ipotesi di modifica del tracciato autostradale che comporterebbe una spesa superiore due volte a quella da operare sulla linea ferroviaria che inoltre garantirebbe un minore impatto sull'ambiente e costi minori anche per i viaggiatori. Per esempio noi pensiamo a un collegamento con un treno veloce tra Pescara e Roma e viceversa che parta la mattina e che non abbia fermate intermedie e che quindi abbatta i tempi di percorrenza sotto le tre ore e quindi la Pescara-Roma deve rinascere e può rinascere con un progetto strategico che migliori il tracciato ma anche con proposte concrete che riavvicinino i pendolari studenti, turisti, persone che devono andare per lavoro a Roma a prendere il treno piuttosto che prendere la macchina o l'autobus. E ora la cronaca Pescara, bomba carta nel cortile di Sebastiani, il presidente del Pescara calcia ancora una volta nel Mirino. L'esplosione domenica alle 23 paura ma nessun ferito né danni. Tre mesi fa l'incendio di due auto sotto casa si segue la pista della tifoseria arrabbiata per la retrocessione ma non solo. Leila Di Giulio che guida le indagini della Digos, già individuati i responsabili dell'attentato del febbraio scorso. Saranno esaminate le registrazioni video delle telecamere. Preoccupano i legami tra tifosi ed estrema destra. Parlare la vittima, il presidente dice non mi lascio intimidire il numero uno del delfino. Dice ero appena rientrato in casa quando ho sentito un boato ma non mollo. E poi le reazioni. La violenza non appartiene alla comunità bianco-azzurro. La solidarietà del sindaco Alessandrini e dell'assessore allo sport Diodati. Mascia, Beci e Sfamurri dicono i veri sportivi non c'entrano. E poi ancora cronaca minacciato con l'ascia dai rapinatori. Notte da incubo per un 73enne di Via Chieti a Montesilvano, sorpreso nel sonno dai due malintenzionati entrati a casa. L'anziano ha avuto la forza di reagire e chiamare il 112. I carabinieri del capitano Falce hanno arrestato la coppia. La vittima bloccata in cucina sotto il controllo della donna mentre il complice frugava in camera. Operazione Passi Mafi. Sanità anche un pescarese tra i 19 in manette per truffa. sgominata dal NAS, un'organizzazione a capo di un sistema di corruzione e riciclaggio in campo farmaceutico. Finisce nei guai Enzo Luccherini della IBSA, indaga la procura di Parma, coinvolto un luminare. E poi la festa alla Madonna del Rosario, le reliquie del beato Nunzio. Lo scacco alla banda carburante self-service presi gli autori dei colpi a Pescara. La nuova caserma della finanza nel nome di Parete. Sabato l'inaugurazione, dopo sette anni di lavori e polemiche. A Cerbo dice affossato lo sviluppo turistico sulla Riviera Sud. E poi lo scontro politico giunta da azzerare per il rilancio. Aliano torna alla carica con il sindaco di Montesilvano, Maragno. Il concerto, spostato di un secondo, c'è Masini al massimo. Il cantante proporrà stasera un repertorio che riassume 50 anni di vita con i suoi successi. La solidarietà ad Riccesta ha un gran successo con Preziosi. Il pienone giovedì sera al Circus per la serata dedicata a Valentina Lattanzio. Scomparsa 30 anni fa, quando aveva soltanto 10 anni. L'Aquila a liste presentazione. Il 12 e 13 campagna per ora sullo social. Ultimi giorni prima della scadenza e in pazza il Toto Santino su Facebook. Due le questioni principali sono Top Secret, la civica di Di Benedetto e il gruppo Trifuoggi. Sciolto il nodo in extremis, sarà in campo anche l'ex assessore Alfredo Moroni con Abruzzo Civico. E poi gli schieramenti sicurezza lavoro e rifondazione. Ecco i primi nomi. Incidente su Via Aldomoro, oggi i funerali del motociclista Massimo Di Fabio. E poi un evento, la mostra personale a Istanbul dell'artista Aquilano Ianni. La storia proposta di nozze a fine partita, una proposta di matrimonio singolare, divertente e apprezzata. 18 giovani calciatori festanti per la salvezza appena raggiunta, ma soprattutto, forse per un'altra cosa, per una maglietta creata ad hoc nella foto per l'occasione. Anna, mi vuoi sposare? Così Lorenzo Di Pietro, capitano del Capitignano Calcio, ha chiesto alla sua amata di convolare a notte. a nozze domenica scorsa, al termine della partita di calcio. Andiamo avanti. Il commercialista non paga le tasse 170 clienti nei guai. Il professionista, 70 anni, non aveva comunicato nulla agli assistiti. E ora indaga la Guardia di Finanza coinvolte anche importanti aziende. Lo sport emergente, il floorball, un altro scodetto, gli aquilani, campioni d'Italia, battendo in finale la Viking Roma. Il successo davanti a 300 spettatori, dedicato allo scomparso Ezio Pace. E poi l'appuntamento da giovedì, la festa patronale a Preturo, con il comico Marco Papa. Neurochirurgia va riaperta subito a Vezzano in un documento. Il consigliere regionale Leandro Bracco fa riferimento al recente caso della donna colpita da ischemia. Sotto accusa i tempi impiegati per il trasferimento all'ospedale dell'Aquila, in riferimento a un analogo episodio precedente. I medici hanno ben operato, l'assistenza ha funzionato, ma serve il reparto. E poi picchiata e rapinata nella notte una prostituta sudamericana di 45 anni ad Avezzano. La SATIC perde la gara in arrivo a altri tagli a Sulmona. La lunga agonia della SATIC, la cooperativa di servizi che da decenni lavora per conto del comune, segna un altro passaggio verso la fine. La gara per il servizio di guardiania, un appalto da 146 mila euro che avrebbe dovuto impegnare sei lavoratori, e è stata infatti assegnata ieri ad una concorrente, la prima a presentarsi in alternativa dopo tanti anni. La Crea Service, cooperativa quest'ultima che aveva fatto il suo ingresso al servizio dell'amministrazione Casini, ai primi di aprile con un incarico affidato per la pulizia e la maschera durante il convegno di studi per Ovidio 2017, una tegola che non cade da sola sulla SATIC che ha annunciato, stante le cose, soprattutto il ritardo nell'indizione della gara per il front e back office. Il licenziamento di 10 unità che si aggiunge a quello di 4 persone, già reso sì necessario nei mesi scorsi per venir meno del supporto all'ufficio anagrafe. A Sulmona, le primarie del PD, la Bianchi vota e poi denuncia. Chiesto al presidente democrata Orfini di valutare la legittimità delle operazioni. E poi a Canistro, la Santa Croce presenta il ricorso al TAR contro la gara. A Vezzano elezioni ora è guerra di comunicati, mentre l'avvocato Leonardo Cascere annuncia ufficialmente che aprirà la campagna elettorale in piazza a risorgimento il 14 maggio prossimo, sugli altri fronti è scontro aperto. Sono una serie di questioni di carattere sostanziale e strumentale. Cascere sarà in piazza il 14 maggio, sostenendo che il suo tentativo di avere confronto pubblico nella stessa piazza è stato glissato dalla concorrenza. A Chieti, ospedale, verifiche sismiche sui pilastri di 5 edifici. Analisi in un laboratorio specializzato per testare la qualità di cemento e ferro. Attesa per i risultati della palazzina è gemella di quello a rischio e svuotata. Asl è iniziativa del DG Flacco per garantire la sicurezza dopo i casi dei corpi C ed F. E poi la tarica è stangata, le bollette in arrivo per 25 mila teatini. Il comune conta di incassare almeno 12 milioni. Ed ecco i numeri. Aumenti medi dal 22 al 33%, ma per qualcuno l'importo è perfino raddoppiato. E poi la lite in Ateneo, azione disciplinare contro del vecchio, il caso. Tanti musicisti al Marrucino per ricordare di Leonardo. La croce gialla 3 a giudizio per bancarotta. Due ex amministratori lancianesi e l'imprenditore Picciotti sotto processo. Accusa bene distratti per oltre 2 milioni. Il colosso sanitario Frentano fallì il 13 gennaio dello scorso anno. Il PM di Serio dice hanno reso impossibile la ricostruzione degli affari. Gli imputati respingono gli addebiti e dicono saremo in grado di smontare tutto. Siamo vittime. E poi a Lanciano botta i parenti per soldi, condannata una coppia. A basso arriva il giro d'Italia, le strade turnano nuove. L'assessore Gino Marcello dice rimesse in sesto con un contributo regionale di 100 mila euro. E poi la cronaca Cupello nasce in casa grazie a nonna Mimma. La giovane non fa in tempo ad andare in ospedale e mette al mondo. La piccola Sara. A Urtona rifiuti il commissario riapre la Ecolan. Ancora sulle pagine della Messaggero a Teramo il nuovo depuratore decisivo per il turismo e l'agricoltura. Il governatore dice un investimento concreto di 5,3 milioni sul territorio consegnati i lavori del primo lotto che riguarda la struttura di Tortoreto. Alessandro Montonati, ingegnere Suez, dice procederemo a subappalti con ditte locali per fare prima. E poi la politica a Brucci non recupera i due civici e i fratelli d'Italia alleanza nazionale. Una crisi di maggioranza il consigliere Caccioni diventerà lago della bilancia. L'evento Fiera dell'agricoltura arrivano 200 espositori e poi per la viabilità autobus restyling integrale per il terminal ex manicomio. A Giulianova la Costa Blu fa il pieno di bandiere. Il terramano ne ottiene 5 sulle 8 assegnate all'Abruzzo, le altre conquistate da Fossa Cesia, San Salvo e Vasto. La grande soddisfazione dei sindaci di Giulianova, Roseto, Pineto e dai funzionari di Tortoreto e Silvi. Il presidente della FEE dice attenti a depuratori, niente prelievi dopo le piogge. A Tortoreto l'avvocato Rampa illizza le comunali, nominesce una sorpresa e adesso sei competitor per il post commissario. A Notaresco una targa per ricordare l'eroe Boccabella. E poi a Martinsicuro 5 liste a sostegno di Vagnoni ci accusano di essere eterogenei e questa sarà la nostra arma vincente. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città in apertura. Nuova vita per le autostazioni Terramane a modernamento in arrivo per Piazza San Francesco. Il nuovo terminal da realizzare a Mosciano Stazione. I finanziamenti si tratta di 5 milioni di euro che serviranno per migliorare le autostazioni che verranno dotate anche di servizi innovativi come wifi, bar e ristorazione. E poi Pescara la bomba carta nel giardino di Sebastiani. Un nuovo atto intimidatorio nei confronti del presidente della Pescara Calcio. Ricostruzione scuola e la palla resta in mano ai sindaci. D'Alfonso dice che saranno loro a decidere se delocalizzare o adeguare le scuole a parametri antisigismi. Il tema resta sempre lo stesso. Dal governo nessuna indicazione sui parametri minimi per decidere se mantenere o meno un edificio. Di taglio basso l'eventola peristritta ciascuno la sua violazione con rispettiva sanzione. L'assessore Canzio dice che il compito del comune è fissare delle regole della polizia municipale e farle rispettare. E poi su Teramo la crisi in comune. Domani torna in pista a Brucchi ma lo stallo non è ancora risolto. Ritiro delle dimissioni, nuova giunta a 6 e verifica della maggioranza. Potrebbero non coincidere affatto. La giunta a 6 alternativa se sbraccia, non dovesse rientrare in maggioranza. Rischia la poltrona anche Canzio. A quel punto nei giochi potrebbero rientrare anche Cozzi e la Guardiani. Il sociale case per sfollati nei palazzi di Via Longo è la richiesta per che le minoranze tornano ad avanzare al posto dell'housing. Daverna e Ginobble porte chiuse per lo stallo del sindaco Brucchi. Il sindaco non sta lasciando nulla di intentato per risolvere la sua crisi di maggioranza. Ha compreso il tentativo di cercare una convergenza da parte di un consigliere del PD. Lo scontento provinciale Maurizio Verna non ha contentato nelle sue ambizioni alla vicepresidenza della provincia. E poi il caso in un anno nessuna certezza su Piazza Dante. Ancora impossibile quantificare il vantaggio del privato sul piano a raso. Giovedì al Bonolis la fiera dell'agricoltura presentata alla 29esima edizione vetrina del rilancio del settore dopo i disastri di sisma e maltempo. E poi di spalla la cultura in città l'Arci Stacon di Dalmazio ed è confusa anche dal nuovo assessore. La provincia alle bandiere blu terramane salgono a 5. A Giulianova e Roseto torna a sventolare il vessillo della FE. Conferme per Silvi, Pineto e Tortoreto. Per il 2017 l'Abruzzo segna mostri di ripresa passando da 6 a 8 riconoscimenti. Ma restando comunque al di sotto dei 10 comuni che hanno ricevuto la bandiera nel 2014 e dei 14 invece del 2013. Mastro Mauro, il sindaco di Giulianova, dice un risultato importante raggiunto anche grazie all'impegno costante di Archimede Forcellese. E poi a parlare Verrocchio dice un riconoscimento che è frutto del lavoro portato avanti da istituzioni e operatori turistici. E infine di Girolamo, il sindaco di Roseto, dice un punto di partenza da cui dare il via a una campagna per migliorare ancora l'ambiente. Depuratore doppione pronto entro il 2018, Tortoreto nella sede del Ruzzo, la consegna dei lavori per l'impianto che sarà realizzato dal colosso francese Suez. Tortoreto pressing di Piccioni per convincere Monti. Il centrodestra in difficoltà chiede l'appoggio dell'ex sindaco e degli esponenti che si sono chiamati fuori. Il gruppo dei dissidenti va avanti ed è pronto a presentare il suo candidato, Forze Rampa. I 5 Stelle una cena di autofinanziamento con gli onorevoli e i consiglieri regionali che serviranno ai tavoli in veste di camerieri. E poi a Nerito la giunta sdoppia all'area finanziaria e aumenta i costi. Daniele Laurenzi attacca anche sull'affidamento del servizio per la riscossione dei tributi. A Corropoli, amministrazione assente alla festa dell'aeronautico. Giulianova, irregolarità nei bandi per i lavori della caserma e per le scuole di Giulianova. L'ordine degli architetti chiede il ritiro degli affidamenti per le prestazioni tecniche. La criticità agli importi delle gare sarebbero stati frazionati per utilizzare la procedura negoziata. Per la cronaca beccato dai militari mentre ripulisce le auto in sosta, sempre su Giulianova. E poi Arboretti non molla e chiede ancora di spostare la piscina. Il cittadino governante critica la ripresa dei lavori nella zona sud del porto. Nessun recupero in vista per il Cico Mendez. A Roseto, alla villa, spunta un dipinto sconosciuto. Un'opera d'arte di 70 metri quadrati nascosta dal controsoffitto e scoperta durante i lavori di ristrutturazione. È difficile per il momento datare l'opera, visto che si attende il sopralluogo della soprintendenza delle belle arti. Ad Atria, Abruzzo Civico attacca sullo stato degli impianti sportivi cittadini. Gran parte delle strutture è danneggiato o a rischio. Basilico chiede al sindaco di aprire un tavolo con le società. La cultura, maestro del pensiero libero a Giuseppe Lisciani, il premio trequattrini per i traguardi raggiunti come studioso ed editore. E poi a teatro, Giorgio Pasotti in scena il Cursal con forza. Il meglio è passato. La pagina dello sport, ecco perché i play-out sono un miracolo. Scelte sbagliate nelle due campagne a cui si è un organico che ha evidenziato tantissime lacune. Eppure con 40 punti il Teramo può ancora sperare. Ci spostiamo sulle pagine del messaggero. E anche qui apriamo la pagina dello sport iniziando con la serie A. La via Crucis sta per finire. Il Pescara sta collezionando una serie di record negativi a livello italiano ed europeo per punti e gol incassati. Episodi molto gravi come quelli di violenza a Sebastiani. Tommasi dice sul caso Montari, giusto l'intervento di Asso Calciatori. Le prime tre gare hanno ingannato facendo compiere gravi errori sul mercato e anche di strategia. E poi per il notiziario con il Palermo si giocherà in posticipo. Di spalla Formichetti dice Sognavo di disegnare la tappa per il Giro del Centenario. La Carovana Rosa arriverà in Abruzzo domenica 14 maggio per scrivere una pagina importante nella storia del ciclismo. Una tappa importante di 139 chilometri che offrirà uno spettacolo indimenticabile dal mare alla montagna e darà in questa prima parte del Giro uno scossone alla qualifica. E poi dilettanti spoltore in cinque anni da terza categoria all'eccellenza. Il miracolo della squadra griffata Donato Ronci, profeta in patria. Andiamo a vedere anche le pagine dello sport del quotidiano Il Centro. Iniziamo dal caso di cronaca per il presidente Sebastiani. Delinquenza nel pallone bomba carta esplode nel giardino di Sebastiani domenica sera. La seconda intimidazione dopo quella di tre mesi fa. Una persona con un casco bianco alla guida di un motorino sarebbe stata vista allontanarsi subito dopo. L'allarme lanciato con una telefonata al 113 arriva alle 23.15 da Viale della Riviera. Venite c'è stata una forte esplosione sul posto oltre alle volanti anche di Goss e scientifica. E poi per il mercato si lavora al ritorno di Balsano. Il terzino avvistato al poggio qualche giorno fa. A Zeman potrebbe riavere l'ex capitano. La reazione all'attentato per il presidente? No alle intimidazioni. Vado avanti lo stesso. Il presidente nel mirino perché però non si tira indietro. Episodio deprecabile considerando quello che ho fatto negli anni. Ma non inciderà sul futuro. Anche il sindaco Alessandrini a sostegno del patron e dice la violenza non è uno strumento di dialogo. E poi l'evento a Milano verrà a Tiviali e Leonardo da Di Campli presentata alla società dell'avvocato frentano con i big del calcio. Difficile arrivare a Favilli e Orzolini in Inghilterra ben alì nel mirino di West Ham e Southampton. La Liga Pro aspettando i play-out Baccolo sprizza fiducia. Teramo dipende solo da te. Il centrocampista in gol a Salò se sapremo esprimerci al meglio. Il più sarà fatto. La salvezza passerà per la doppia sfida contro il Lumezzane del 21 e del 28 maggio. E allora con lo sport come sempre noi concludiamo la nostra rassegna stampa prima di salutarci. Ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del Tg6 arriva nella prima edizione alle 14. Invece la rassegna stampa di mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.